Il diario segretissimo Ermione rimase in infermeria per diverse settimane. Quando gli studenti tornarono dalle vacanze di Natale, corsero varie voci sulla sua scomparsa, perché naturalmente tutti pensarono che fosse l'ennesima vittima. Erano talmente tanti gli studenti incuriositi che si accalcavano fuori dell'infermeria per cercare di scorgerla, che Madame Pomfrey tirò di nuovo fuori le famose tende e le appese tutta attorno al letto per risparmiarle la vergogna di farsi vedere con la faccia pelosa. Harry e Ron andavano a trovarla tutte le sere. Quando ricominciò il trimestre, le portavano i compiti del giorno. «Magari mi fossero spuntati i baffi anche a me, almeno potrei prendermi una vacanza», sospirò Ron una sera, rovesciando una pila di libri sul comodino di Ermione. «Non essere sciocco, Ron, io devo tenermi al passo», gli rispose lei vivace. Il suo umore era molto migliorato da quando i peli se n'erano andati dalla faccia e gli occhi stavano ritornando lentamente del loro colore. «Ci sono novità?», aggiunse in un sussurro per non farsi sentire da Madame Pomfrey. «Nessuna», rispose Harry cupo. «Eppure avrei giurato che fosse Malfoy», ripete Ron per la centesima volta. «E quello cos'è?», chiese Harry indicando qualcosa di dorato che spuntava da sotto il cuscino di Ermione. «Soltanto un cartoncino di auguri», disse in fretta Ermione, cercando di farlo sparire. Ma Ron fu più veloce di lei, lo tirò fuori, lo aprì e lesse ad alta voce. Alla signorina Granger, con l'augurio di una pronta guarigione, dal suo preoccupato insegnante, professor Gilderoy Lockhart. Ordine di Merlino, terza classe, membro onorario della Lega per la difesa contro le arti oscure e cinque volte vincitore del premio per il sorriso più affascinante, indetto dal settimanale delle streghe. Ron fissò Ermione disgustato. «E dormi con quello sotto il cuscino!» L'arrivo provvidenziale di Madame Pomfrey, che portava la medicina della sera, evitò a Ermione di rispondere. «Non trovi che Lockhart sia l'individuo più viscido che hai mai incontrato in vita tua?» chiese Ron a Henry, mentre lasciavano l'infermeria e si avviavano su per le scale, verso la torre di Grifondoro. Piton gli aveva assegnato tanti di quei compiti che si sarebbero ritrovati al sesto anno senza averli ancora finiti. Ron si stava appunto ramaricando di non aver chiesto a Ermione quante code di topo andavano aggiunte alla pozione drizzacapelli, quando, dal piano di sopra, gli giunse alle orecchie uno scoppio di grida. «È Filch!» bisbigliò Henry. Fecero di corsa le scale, poi si fermarono, si nascosero e rimasero in ascolto, con le orecchie tese fino allo spasimo. «Pensi che sia stato aggredito qualcun altro?» chiesero onnervoso. Rimasero immobili, sporgendosi nella direzione da cui proveniva la voce isterica di Filch. «Ancora altro lavoro! È tutta la notte che asciugo pavimenti, come se non avessi già abbastanza da fare! No, questa è la goccia che fa traboccare il vaso! Adesso vado da Silente!» Il rumore di passi si affievolì e una porta sbatté in lontananza. Harry e Ron fecero capolino dietro l'angolo per dare un'occhiata. Era chiaro che Filch stava ancora montando la guardia al solito posto. I due si trovavano di nuovo sul luogo dove era stata aggredita Mrs. Norris. Bastò un'occhiata per capire il motivo di tanto chiasso. Il corridoio era per metà allagato da un grosso rivolo d'acqua che sembrava provenire da sotto la porta del bagno di Mirtilla malcontenta. Ora che Filch aveva smesso di gridare, si udivano i lamenti di Mirtilla trapassare i muri. «E ora che cosa le ha preso?» chiese Ron. «Andiamo a vedere!» disse Harry e tirandosi gli abiti sopra le caviglie attraversarono la grande pozza d'acqua fino alla porta con su scritto «Guasto». Come sempre ignorarono l'avviso ed entrarono. Mirtilla malcontenta stava piangendo, se possibile, ancor più forte e disperata di sempre. Sembrava fosse nascosta nel solito gabinetto. Il locale era buio perché le candele erano state spente dallo scroscio d'acqua che aveva inondato pareti e pavimento. «Che cosa è successo, Mirtilla?» chiese Harry. «Chi è?» gorgogliò lei con una voce da far pietà. «Siete venuti a scaraventarmi addosso qualche altra cosa?» Harry si avvicinò al suo cubicolo e disse. «E perché dovrei scaraventarti addosso qualcosa?» «Non lo chiedere a me!» gridò Mirtilla emergendo e provocando un'altra ondata d'acqua che finì sul pavimento già fradicio. «Io me ne sto qui a farmi i fatti miei ed ecco che qualcuno si diverte a tirarmi addosso un libro!» «Ma se qualcuno ti tira addosso qualcosa non può certo farti male!» disse Harry in tono ragionevole. «Voglio dire che l'oggetto ti passerebbe attraverso, non è così!» Ma decisamente aveva detto la cosa sbagliata. Mirtilla si gonfiò tutta e strillò. «Molto bene! Allora facciamo che tutti tirino libri addosso a Mirtilla! Tanto lei non sente dolore! Dieci punti se le attraversi lo stomaco! Cinquanta se le attraversi la testa! Benone! Ha ha ha! Ma che gioco divertente! Per tutti! Tranne che per me!» «Ma insomma chi te l'ha tirato?» chiese Harry. «E che ne so! Me ne stavo tranquillamente seduta nel sifone a pensare alla morte quando mi è caduto proprio sopra la testa!» spiegò Mirtilla fissandoli. «Eccolo lì! Si è bagnato tutto!» Harry e Ron guardarono sotto il lavandino nella direzione indicata da Mirtilla. Per terra c'era un libricino. Aveva una copertina nera, molto malandata e come tutto il resto nel gabinetto era fradicio. Harry si avvicinò e lo raccolse ma Ron allungò un braccio per trattenerlo. «Che cosa c'è?» chiese Harry. «Ma sei matto!» disse Ron. «Potrebbe essere pericoloso!» «Pericoloso!» rise Harry. «Ma stai scherzando! Come potrebbe essere pericoloso?» «Non si sa mai!» esclamò Ron guardando il libricino con apprensione. «Fra i libri confiscati dal ministero mi ha detto papà ce n'era uno che ti bruciava gli occhi e quelli che leggevano sonetti di uno stregone dopo parlavano in versi per tutta la vita. Una vecchia strega che viveva a Bath aveva un libro che non si riusciva mai a smettere di leggere. Eri costretto ad andartene in giro con il naso incollato alle pagine cercando di fare tutto con una mano sola e... «Va bene, ho capito cosa vuoi dire» disse Harry. Il libricino era ancora lì per terra tutto zuppo e dall'aria apparentemente inoffensiva. «Beh, non sapremo mai di che cosa si tratta se non gli diamo un'occhiata» disse Harry e si chinò scansando Ron per raccogliere da terra. Vide subito che si trattava di un diario e dalla data scolorita sulla copertina capì che risaliva cinquanta anni prima. Lo aprì con impazienza nella prima pagina riuscì soltanto a decifrare un nome scritto con un inchiostro sbavato «T.M. Riddall». «Aspetta un po'» disse Ron che si era avvicinato cautamente e stava guardando da sopra la spalla di Harry. «Io questo nome lo conosco. Cinquant'anni fa T.M. Riddall ebbe un premio per servigi speciali resi alla scuola». «E come diavolo fai a saperlo?» chiese Harry sbalordito. «Perché Filch mi ha fatto pulire la sua targa cinquanta volte quando ero in punizione» disse Ron ancora risentito al pensiero. «È quella su cui ho vomitato tutte quelle lumache. Te ne ricorderesti anche tu se avessi passato un'ora a ripulire dalla bava di lumaca un nome su una targa». Harry scollò le pagine bagnate. Erano completamente bianche. Non vera traccia di scrittura neanche tanto per dire «Oggi è il compleanno di Zia Mabel oppure ore 15.30 dentista». «Non ci ha mai scritto niente» disse Harry deluso. «Mi chiedo perché qualcuno abbia voluto liberarsene» disse incuriosito Ron. Harry guardò il retro della copertina e vide stampato il nome di un giornalaio di Vauxhall Road a Londra. «Per aver comprato un diario a Vauxhall Road doveva essere nato Babano» disse pensieroso. «Beh, non è un'informazione che ci torni particolarmente utile» commentò Ron. Poi, abbassando la voce «50 punti se riesce a farlo passare attraverso il naso di Mirtilla». A ogni buon conto Harry se lo mise in tasca. I primi di febbraio una ermione finalmente priva di baffi, coda e pelo lasciò l'infermeria. La sera stessa del suo ritorno alla torre di Grifondoro Harry le mostrò il diario di T.M. Riddle e le raccontò in che modo lo avevano trovato. «Oh, potrebbe avere poteri nascosti?» disse lei entusiasta prendendolo in mano e rigirandolo da tutte le parti. «Nascosti benissimo» direi commentò Ron. «Forse è timido non capisco perché non lo butti via Harry». «Vorrei proprio sapere perché qualcuno abbia cercato di buttarlo via» disse Harry. «E anche in che modo Riddle si è guadagnato quel premio per servigi speciali a Hogwarts?» «Può essere stato per una cosa qualsiasi» azzardò Ron. «Forse aveva ottenuto trenta GUFO oppure aveva salvato un professore dal calamaro gigante. Forse ha ammazzato Mirtilla con il che avrebbe reso un grande favore alla collettività». Ma dallo sguardo assorto di Hermione Harry capì che stava pensando quel che pensava lui. «Che cosa c'è?» chiese Ron spostando lo sguardo dall'uno all'altra. «Beh, la camera dei segreti è stata aperta cinquant'anni fa, giusto?» disse Harry. Così ha raccontato Malfoy. «Già», disse Ron lentamente. «E questo diario ha cinquant'anni», disse Hermione indicandolo con il dito elettrizzata. «E allora?» «Dai Ron, svegliati!» sbottò Hermione con impazienza. «Noi sappiamo che la persona che ha aperto la camera l'ultima volta è stata espulsa cinquant'anni fa. Sappiamo che cinquant'anni fa TM Riddle ha ricevuto un premio per servigi speciali resi alla scuola. Che ne diresti se Riddle avesse ottenuto il premio per aver scoperto chi era l'erede di Serpeverde. Probabilmente il suo diario potrebbe dirci tutto. Dove si trova la camera? Come si fa ad aprirla? E che genere di creatura ci vive chiusa dentro? La persona che oggi sta dietro agli attentati non vorrebbe certo che il diario andasse in giro, non trovi? Teoria brillante Ermione insistette Ron ma c'è un piccolissimo problema nel diario non c'è scritto un bel niente ma Ermione stava già tirando fuori dalla borsa la bacchetta. Potrebbe essere stato scritto con inchiostro simpatico bisbigliò colpì tre volte il diario e disse A Parisium! Niente senza perdersi d'animo Ermione tornò a infilare la mano nella borsa e ne estrasse qualcosa che assomigliava a una gomma da cancellare di color rosso acceso. È un rivelatore l'ho preso a diagonale disse strofinò forte sulla pagina del primo di gennaio niente date retta a me dentro a quel diario non c'è proprio un fico secco da scoprire disse Ron è successo semplicemente che Riddle ha ricevuto un diario per Natale e che non si è dato la pena di scriverci su Harry non riusciva a spiegare neanche a se stesso perché non gettasse via il diario di Riddle il fatto era che pur sapendo che le sue pagine erano bianche continuava a sfogliarle distrattamente come se ci fosse scritta una storia e volesse finire di leggerla era sicuro di non aver mai sentito prima il nome di T.M. Riddle e tuttavia gli pareva che significasse qualcosa per lui come se Riddle fosse un amico d'infanzia quasi dimenticato ma tutto questo era assurdo lui non aveva mai avuto amici prima di andare a Hogwarts Dudley aveva fatto di tutto per impedirglielo ma Harry era deciso a saperne di più su Riddle per questo il giorno dopo durante la ricreazione si avviò verso la sala dei trofei con l'intenzione di esaminare il premio speciale lo seguivano Hermione curiosissima e Ron sempre scettico dichiarando che della sala dei trofei aveva visto abbastanza per tutta la vita la targa d'oro brunito di Riddle era riposta in un armadio d'angolo mancavano i particolari del perché gli fosse stata conferita meno male commentò Ron altrimenti sarebbe stata ancora più grande e io sarei ancora qui a lucidarla ma trovarono il nome di Riddle su una vecchia medaglia al merito magico e su un elenco di passati capiscuola sembra persi disse Ron arricciando il naso disgustato prefetto caposcuola probabilmente sempre il primo della classe lo dici come se fosse un delitto lo rimbeccò Ermione un po' urtata un sole pallido aveva ricominciato a brillare su Hogwarts nel castello l'umore si era fatto più speranzoso dopo l'aggressione a Justin e a Nick quasi senza testa gli attentati non si erano più ripetuti e Madame Pomfrey era lieta di far sapere che le mandragole stavano diventando lunatiche e scontrose il che significava che stavano rapidamente uscendo dall'infanzia quando gli sarà sparita l'acne saranno pronte per la rinvasatura Harry la sentì un pomeriggio spiegare gentilmente a Filch dopodiché non mancherà molto al momento di tagliarle e metterle a bollire in men che non si dica lei riavrà la sua Mrs. Norris viva e vegeta forse l'erede di Serpeverde si era scoraggiato pensò Harry doveva essere sempre più rischioso aprire la camera dei segreti con la scuola così in allerta e sospettosa chissà forse in quello stesso momento il mostro di qualsiasi cosa si trattasse si stava preparando ad andare in letargo per altri 50 anni Ernie McMillen di Tassofrasso non condivideva questa visione ottimistica era ancora convinto che il colpevole fosse Harry che si era svelato durante il duello Peeves non contribuiva certo a sdrammatizzare la situazione continuava a spuntare nei corridoi affollati cantando e Potter canaglia che in furia si scaglia e per di più accompagnava la canzone con un balletto Gilderoy Lockhart sembrava convinto di essere stato lui a metter fine agli attentati Harry glielo sentì dire alla professoressa McGonagall una volta che i grifondoro erano in fila per la lezione di trasfigurazione non penso che ci saranno altri disordini Minerva disse battendosi un dito sul naso con l'aria di chi la s'allunga e ammiccando credo proprio che stavolta la camera sia stata chiusa per sempre il colpevole deve essersi reso conto che io l'avrei stanato era solo questione di tempo ragionevole direi a essersi fermato ora prima che lo massacrassi vedi quello di cui la scuola ha bisogno in questo momento è un sostegno morale cancellare i ricordi dell'ultimo trimestre ora non voglio anticipare niente ma credo di sapere esattamente di che cosa si picchiò di nuovo la punta del naso e si allontanò a grandi passi quel che intendesse Lockhart quando parlava di sostegno morale fu chiaro la mattina del 14 febbraio a colazione la notte prima Harry non aveva dormito molto per via di un allenamento notturno di Quidditch e quando arrivò trafelato al tavolo dei grifondoro era in leggero ritardo per un attimo credette di avere varcato la porta sbagliata le pareti erano coperte di grossi fiori di un rosa acceso come se non bastasse dal soffitto color azzurro pallido piovevano coriandoli a forma di cuore Harry si avvicinò al tavolo dei grifondoro dove Ron sembrava in preda un attacco di nausea e Hermione rideva in maniera insulsa che cosa sta succedendo chiese Harry sedendosi e togliendo i coriandoli dal bacon Ron indicò il tavolo degli insegnanti troppo disgustato per parlare Lockhart che indossava un abito dello stesso colore rosa acceso delle decorazioni stava agitando le braccia per chiedere silenzio gli insegnanti che sedevano a suo fianco erano attoniti come pietrificati dal punto dove si trovava Harry vedeva un muscolo contrarsi sulla guancia della McGonagall quanto a Piton pareva gli avessero propinato un bel bicchierone di osso fast buon San Valentino esclamò Lockhart e il mio grazie alle 46 persone che mi hanno mandato una cartolina di auguri sì mi sono preso la libertà di farvi una piccola sorpresa e non finisce qui così dicendo batté le mani e dalle porte della sala d'ingresso entrarono una dozzina di nani dall'aria arcigna ma non erano nani qualsiasi Lockhart li aveva dotati tutti di ali dorate e di un'arpa i miei amici cupidi postini d'amore annunciò raggiante Lockhart oggi andranno in giro per tutta la scuola consegnando i vostri auguri di San Valentino e il bello non finisce qui sono sicuro che i miei colleghi vorranno condividere lo spirito della festa perché non chiedete al professor Piton di mostrarvi in 448 come si prepara un filtro d'amore e già che ci siamo il professor Flitwick quel vecchio furbacchione di incanti incantevoli ne sa più di qualsiasi mago io abbia mai conosciuto il professor Flitwick si nascose la faccia tra le mani quanto a Piton la prima persona che si fosse azzardata a chiedergli un filtro d'amore rischiava l'avvelenamento ti prego Ermione dimmi che non sei tra quei 46 disse Ron quando ebbero lasciato la sala grande per la prima ora di lezione ma tutta un tratto Ermione sentì il bisogno impellente di cercare l'orario nella borsa e non rispose per tutto il giorno i nani non smisero di fare ilusione nelle aule per consegnare gli auguri di San Valentino con grande disappunto degli insegnanti più tardi nel pomeriggio mentre i grifondoro stavano salendo per la lezione di incantesimi un nano chiamò Erry a gran voce ehi tu Harry Potter gridò aveva l'aria particolarmente arcigna e si fece largo a gomitate per raggiungere il ragazzo imbarazzato al pensiero di ricevere gli auguri di San Valentino davanti a una folla di studenti del primo anno tra cui Ginny Weasley Erry cercò di scappare ma il nano si fece largo tra la folla tirando calci sugli stinchi a tutti e lo raggiunse prima che avesse potuto fare due passi ho un messaggio musicale da consegnare a Harry Potter in persona disse pizzicando l'arpa con fare stranamente minaccioso non qui si bilò Erry cercando nuovamente di darsela a gambe fermo dove sei grugnì il nano afferrandolo per la cartella lasciami andare ringhiò Erry dando uno strattone si udì il rumore di qualcosa che si lacerava e la sua cartella si strappò in due i libri la bacchetta la pergamena e la penna d'oca si sparpagliarono a terra e sopra a tutto andò a rovesciarsi la bottiglietta dell'inchiostro Erry cercò di raccogliere la sua roba prima che il nano cominciasse a cantare provocando una specie di ingorgo nel corridoio che cosa succede qui era la voce fredda e strascicata di Draco Malfoy con movimenti febbrili Erry cominciò a infilare tutto nella cartella sconquassata nel disperato tentativo di riuscire a filarsela prima che Malfoy potesse sentire il suo messaggio di auguri musicale che cosa è questo trambusto chiese un'altra voce familiare e infatti sopraggiunse Percy Erry perse la testa e cercò di spiccare una corsa ma il nano lo placò alle ginocchia e lo buttò a terra bene disse sedendoglisi sulle caviglie ecco il tuo San Valentino musicale occhi verdi del rospo in salamoia capelli neri del corvo che l'ingoglia è mio lo voglio è un mito di sicuro l'eroe che ha vinto il signore oscuro Erry avrebbe dato tutto l'oro che aveva alla Gringot per dissolversi nell'aria facendosi coraggio e sforzandosi di ridere insieme a tutti gli altri si rialzò con i piedi addormentati per il peso del nano intanto Percy Weasley si dava da fare per allontanare gli studenti alcuni dei quali avevano le lacrime agli occhi dalle risate via via tutti la campanella è già suonata da cinque minuti tutti in classe ora gridò spingendo alcuni dei più giovani anche tu Malfoy alzando gli occhi Erry vide Malfoy chinarsi e afferrare qualcosa con sguardo malizioso lo mostrò a Crabbe e Goyle Erry capì che aveva agguantato il diario di Riddle ridammelo disse sottovoce chissà cosa c'è scritto Potter disse Malfoy che ovviamente non aveva notato la data sulla copertina e pensava che si trattasse del diario personale di Erry fra gli astanti cadde il silenzio Ginny guardava ora Erry ora il diario con aria terrorizzata dallo a me Malfoy intimò Percy con fermezza non prima di averci dato un'occhiata replicò sarcasticamente Malfoy sventolando il libretto in direzione di Erry Percy cominciò come prefetto della scuola ma Erry aveva perso la pazienza tirò fuori la bacchetta e gridò Expelliarmus e come Piton aveva disarmato Lockhart così Malfoy si vide volare via di mano il diario che Ron afferrò con un largo sorriso stampato in faccia Erry disse Percy alzando la voce niente magie nei corridoi dovrò fare rapporto lo sai ma a Erry non importava un accidente aveva avuto la meglio su Malfoy e per questo valeva la pena di far perdere anche cinque punti a Grifondoro Malfoy era furibondo e quando Ginny gli passò accanto per entrare in classe le gridò dietro con voce dispettosa non credo proprio che a Potter siano piaciuti i tuoi auguri di San Valentino Ginny si coprì il viso con le mani e corse in classe ringhiando anche Ron estrasse la sua bacchetta ma Erry lo fermò non era proprio il caso che l'amico passasse tutta la lezione di incantesimi a vomitare rumache soltanto quando furono in classe Erry notò qualcosa di strano nel diario di Riddle tutti i suoi libri erano imbrattati di inchiostro scarlatto a parte il diario che era immacolato come prima che la boccetta dell'inchiostro vi cadesse sopra cercò di farlo notare a Ron ma in quel momento l'amico aveva qualche difficoltà con la sua bacchetta dalla cui estremità uscivano grosse bolle viola per cui non era interessato a niente altro quella sera Erry andò a letto prima degli altri compagni di stanza in parte perché non ne poteva più di sentire Fred e George canticchiare occhi verdi del rospo in salamoia e in parte perché voleva esaminare meglio il diario di Riddle sapendo che Ron la considerava una perdita di tempo si sedette sul suo letto a baldacchino e sfogliò velocemente le pagine bianche senza alcuna macchia d'inchiostro scarlato poi dal comodino prese una nuova boccetta d'inchiostro vi intinse la penna d'oca e lasciò cadere una goccia sulla prima pagina per un attimo l'inchiostro brillò vivido sulla carta poi come se fosse stato risucchiato nella pagina scomparve emozionatissimo Erry intinse di nuovo la penna e scrisse mi chiamo Harry Potter le parole brillarono un istante sulla pagina poi svanirono senza lasciar traccia alla fine accadde qualcosa trasudando dalla pagina nel suo stesso inchiostro apparvero parole che Erry non aveva mai scritto salve Harry Potter io mi chiamo Tom Riddle come sei venuto in possesso del mio diario anche queste parole svanirono ma non prima che Erry cominciasse a scrivere una risposta qualcuno l'ha gettato nel gabinetto e ha tirato la catena attese ansiosamente la risposta di Riddle meno male che ho affidato le mie memorie a qualcosa di più duraturo dell'inchiostro ho sempre saputo che a qualcuno non sarebbe andato a genio che questo diario venisse letto cosa intendi dire scarabocchiò Erry seminando qualche macchia di inchiostro per l'eccitazione voglio dire che questo diario custodisce il ricordo di cose terribili cose che sono state occultate cose accadute nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts è lì che mi trovo in questo momento scrisse velocemente Erry sono a Hogwarts e stanno accadendo cose orribili sai niente della camera dei segreti il cuore gli martellava in petto la risposta di Riddle non si fece attendere e la sua scrittura divenne più disordinata come se avesse fretta di raccontare tutto quel che sapeva certo che so della camera dei segreti ai miei tempi ci dissero che era una leggenda che non esisteva ma era una bugia quando frequentavo il quinto anno la camera venne aperta il mostro aggredì molti studenti e alla fine ne uccise una io presi la persona che aveva aperto la camera e questa fu espulsa ma il professor Dippet il preside vergognandosi che a Hogwarts fosse accaduta una cosa del genere mi proibì di raccontare la verità fu messa in giro la storia che la ragazza era morta in un misterioso incidente a me per il disturbo fu consegnato un bel trofeo lucente tutto istoriato e mi fu intimato di tenere la bocca chiusa ma sapevo che la cosa avrebbe potuto ripetersi il mostro rimase in vita e l'unica persona dotata del potere di liberarlo non fu messa in prigione nella fretta di rispondere per poco Harry non rovesciò la boccetta dell'inchiostro sta succedendo di nuovo proprio ora ci sono stati tre attacchi e sembra che nessuno sappia chi c'è dietro chi è stato l'ultima volta posso fartelo vedere se vuoi giunse pronta la risposta di riddle non devi credermi per forza posso portarti dentro al mio ricordo della notte in cui presi il colpevole Harry esitò con la penna d'oca sospesa a mezz'aria sopra il diario che cosa voleva dire riddle come poteva essere trasportato dentro ai ricordi di un'altra persona lanciò un'occhiata nervosa alla porta del dormitorio dove il buio si stava facendo sempre più fitto quando tornò a posare gli occhi sul diario vide che si stavano formando nuove parole lascia che ti mostri Harry rimase incerto per una frazione di secondo poi scrisse due parole va bene le pagine del diario cominciarono a sfogliarsi come al soffio di un vento forte e si fermarono a metà del mese di giugno con la bocca spalancata per lo stupore Harry vide che il riquadro della data del 13 giugno sembrava essere diventato un minuscolo schermo televisivo con mani tremanti sollevò il libro per mettere l'occhio sulla piccola finestra e prima ancora di sapere cosa stesse accadendo si trovò piegato in avanti verso la finestra che si allargava sentì il proprio corpo lasciare il letto poi fu scaraventato a capofitto nella pagina in un turbinio di luci e ombre a un tratto sentì i piedi poggiarsi sulla terraferma rimase immobile tremante mentre le sagome da prima sfocate acquistavano contorni precisi seppe immediatamente dove si trovava quella stanza circolare con i ritratti addormentati alle pareti era lo studio di silente ma quello seduto dietro alla scrivania non era silente un mago grinzoso e dall'aria fragile calvo tranne che per qualche raro ciuffo di capelli bianchi stava leggendo una lettera al lume di candela Harry non l'aveva mai visto prima mi spiace disse con voce incerta non era mia intenzione disturbare ma il mago non alzò lo sguardo continuò a leggere aggrottando leggermente la fronte Harry si avvicinò alla scrivania e balbettò che faccio me ne vado il mago continuò a ignorarlo sembrava non lo avesse neanche sentito pensando che fosse sordo Harry alzò la voce mi scusi se l'ho disturbata ora me ne vado disse quasi gridando il mago ripiegò la lettera con un sospiro si alzò in piedi gli passò davanti senza degnarlo di uno sguardo e andò a tirare le tende della finestra fuori il cielo era di un rosso rubino sembrava il tramonto il mago tornò alla scrivania si sedette e si girò i pollici fissando la porta Harry si guardò intorno niente Fox la Fenice niente strani congegni d'argento questa era Hogwarts come l'aveva conosciuta Riddle e ciò significava che il preside era quel mago sconosciuto e non silente e che lui Harry era poco più di un fantasma invisibile per la gente di cinquant'anni prima qualcuno bussò alla porta avanti disse il vecchio mago con voce flebile entrò un ragazzo di circa sedici anni e si tolse il cappello a punta sul petto gli brillava il distintivo d'argento da prefetto era molto più alto di Harry ma anche lui aveva capelli neri come l'inchiostro ah Riddle fece il preside voleva vedermi professor Dippet chiese Riddle sembrava nervoso siediti disse Dippet ho appena letto la lettera che mi hai mandato oh disse Riddle si sedette stringendosi forte le mani mio caro ragazzo disse il preside con voce gentile non ho la minima possibilità di farti rimanere a scuola per l'estate non vuoi tornare a casa per le vacanze no rispose prontamente Riddle preferirei molto di più restare a Hogwarts che tornare in quel in quel se non sbaglio trascorri le vacanze in un orfanotrofio di babbani disse Dippet si signore rispose il ragazzo arrossendo lievemente tu sei nato babbano sono mezzo sangue signore disse Riddle padre babbano e madre strega e i tuoi genitori sono tutti e due mia madre è morta appena sono nato signore all'orfanotrofio mi hanno detto che visse solo quanto bastava darmi il nome Tom come mio padre e Marvolo come mio nonno Dippet scosse il capo con aria comprensiva il fatto è Tom sospirò che si sarebbe anche potuto fare uno strappo alla regola per te ma date le attuali circostanze parla di tutti questi attacchi signore chiese Riddle il cuore balzò in petto a Henry che si avvicinò per paura di perdere qualche battuta proprio così disse il preside mio caro ragazzo devi capire quanto sarebbe irragionevole da parte mia lasciarti rimanere al castello una volta terminato il trimestre specialmente alla luce della recente tragedia la morte di quella povera ragazza sarai molto più assicuro nel tuo orfanotrofio il ministero della magia sta parlando addirittura di chiudere la scuola non abbiamo fatto nessun progresso nell'individuale la fonte di questa antipatica gli occhi di Riddle si erano fatti più grandi ma signore se la persona venisse presa se tutto finisse cosa vuoi dire chiese Dippet con una nota stridula nella voce raddrizzandosi sulla sedia Riddle tu sai qualcosa di questa storia no signore si affrettò a rispondere il ragazzo ma Harry ebbe la certezza che quel no assomigliasse molto a quello che lui stesso aveva detto a Silente Dippet tornò ad appoggiarsi all'indietro con l'aria vagamente delusa puoi andare Tom Riddle si alzò e uscì dalla stanza Harry lo seguì scesero la scala a chiocciola mobile e uscirono vicino al gargoyle nel corridoio ora sempre più buio Riddle si fermò e altrettanto fece Harry fissandolo avrebbe giurato che Riddle stesse pensando qualcosa di serio si moldichiava le labbra e aveva la fronte aggrottata poi come se avesse finalmente preso una decisione si allontanò in fretta e Harry gli tenne dietro senza far rumore non incontrarono nessuno fino a che non furono nella sala d'ingresso lì un mago molto alto dai lunghi capelli castano ramati e dalla barba fluente chiamò Riddle dalla scalinata di marmo cosa fai in giro a quest'ora Tom Harry lo guardò era Silente cinquant'anni più giovane il preside ha voluto parlarmi signore disse Riddle beh fila a letto disse Silente lanciandogli la stessa occhiata penetrante che Harry conosceva così bene in questi giorni è meglio non girovagare per i corridoi almeno da quando sospirò profondamente augurò a Riddle la buonanotte e si allontanò Riddle lo seguì con lo sguardo finché non fu sparito poi si diresse rapidamente verso la scala di pietra che portava ai sotterranei sempre con Harry alle calcagna ma con sua grande delusione Riddle non lo condusse in un passaggio nascosto o in un tunnel segreto ma semplicemente nel sotterraneo dove Piton teneva le sue lezioni di pozioni le torce non erano accese e quando Riddle entrò richiudendo la porta quasi del tutto Harry non vedeva più altri che lui immobile mentre sorvegliava il corridoio a Harry sembrò di essere rimasto lì almeno un'ora l'unica cosa che riusciva a scorgere era Riddle appostato vicino alla porta immobile come una statua spiare attraverso la fessura la tensione dell'attesa si allentò e proprio mentre Harry cominciava a desiderare di tornare al presente udì qualcosa muoversi fuori della porta qualcuno percorreva furtivo il passaggio chiunque fosse lo udì oltrepassare il sotterraneo dove lui e Riddle erano nascosti quest'ultimo silenzioso come un'ombra sgattaiolo fuori e lo seguì e Harry dietro di lui in punta di piedi senza pensare che non potevano udirlo seguirono i passi forse per cinque minuti poi Riddle si fermò di scatto teso all'ascolto di nuovi rumori Harry udì il cigolio di una porta che si apriva e poi un bisbiglio rocco dai tocca andare via di qui andiamo su nella scatola quella voce aveva un chedi familiare con un balzo improvviso Riddle svolto all'angolo Harry gli andò dietro vide la sagoma nera di un ragazzo enorme accucciato davanti a una porta aperta con accanto uno scatolone sera Rubius lo salutò Riddle secco il ragazzo chiuse la porta sbattendosela dietro e si alzò in piedi Tom che ci sei venuto a fare qua giù Riddle gli si avvicinò è finita disse sarò costretto a consegnarti Rubius se non finiscono gli attentati si parla di chiudere Hogwarts che diavolo stai non penso che tu volessi uccidere nessuno ma i mostri non possono diventare animali domestici suppongo che tu l'abbia fatto uscire solo per fargli sgranchire un po' le zampe e non ha ammazzato nessuno disse il ragazzo corpulento indietreggiando verso la porta chiusa dietro di lui Harry sentiva un curioso raspare e schioccare coraggio Rubius disse Riddle avvicinandosi i genitori della ragazza morta saranno qui domani il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che gli ha ucciso la figlia sia fatta fuori ma non è stato lui tonò il ragazzo e la sua voce rimbombò nel buio del corridoio non lo farebbe mai fatti da parte disse Riddle estraendo la bacchetta l'incantesimo accese il corridoio di un'improvvisa luce fiammeggiante la porta alle spalle del ragazzo corpulento si spalancò con tale forza che lo mandò a sbattere contro la parete opposta la cosa che uscì fece emettere a Harry un grido lungo e penetrante che lui solo sembrò udire un corpo immenso basso e peloso e un groviglio di zampe nere il bagliore di una miriade di occhi e un paio di chele taglienti come lame di rasoio Riddle alzò di nuovo la bacchetta ma troppo tardi la cosa lo travolse al suo passaggio e poi sparì veloce lungo il corridoio Riddle si rialzò al naspando e le corse dietro fece per sollevare la bacchetta ma il ragazzo corpulento con un balzo gli fu addosso gliela strappò di mano e lo scaraventò all'indietro gridando no tutto cominciò a girare vorticosamente il buio divenne completo Harry si sentì cadere e con un tonfu atterrò all'indietro a braccia e gambe aperte sul suo letto a baldacchino nel dormitorio di Grifondoro sulla pancia aperto giaceva il diario di Riddle prima che avesse avuto il tempo di riprendere fiato la porta si aprì ed entrò Ron ah ecco dove sei disse Harry si mise seduto sudava e tremava tutto cos'è successo chiese Ron guardandolo preoccupato è stato Hagrid Ron Hagrid ha aperto la camera dei segreti 50 anni fa che ha che ha